Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'intervento del deputato gelese all'assemblea regionale siciliana Pino Federico di Forza Italia, bacchettante all'amministrazione comunale in merito alla vicenda Eni. Le missioni a Roma dell'amministrazione comunale di Gela in merito alla vicenda Eni hanno prodotto solo briciole, lo dice il deputato regionale di Forza Italia, il gelese Pino Federico. L'ultimo caso è quello del progetto piattaforma prezioso K. Il colosso industriale, come si ricorderà giorni dietro, ha annunciato di rinunciare alla costruzione della maxi piattaforma alla largo delle coste gelesi, optando sulla costruzione di impianti a terra per il trattamento del gas, il cui impegno in termini economici, dice Sempreni, non si discosta molto da quello della piattaforma. Da 16 mesi c'è un tavolo aperto al ministero formato dal sindaco e dal vice sindaco, dal governo regionale, ma portano soltanto delle dismissioni e del disimpegno da parte dell'Eni nel nostro territorio. Adesso è arrivato il momento, se questi signori non sono interlocutori seri, credibili su quel tavolo, ebbene, devono allargare. Non può essere la sorte della città, non può essere in mano a interlocutori che non riescono neanche ad avere un peso su quel tavolo. Il deputato di Forza Italia lancia una proposta. Signori dell'Eni, noi veramente avevamo un'azienda che qualche anno fa aveva 10.000 addette, circa 20 anni fa, poi siamo scesi a 3.000 addette, adesso l'azienda che abbiamo qui, l'Eni, ha soltanto, per quanto riguarda la raffineria, ha circa 300-400 persone. Scusate, ma se dovete fare tutti, parlate di reinvestimento, ma tutte quelle aree che per la presenza dell'industria sono state inquinate, adesso il progetto che deve portare avanti a questa città è uno e uno soltanto. Bonificateci tutte le nostre aree, una parte, l'80% di quelle aree che servivano alla raffineria, bene, a mio parere non servono più alla raffineria per l'investimento che stanno facendo ora. Quindi devono essere bonificate e devono essere restituite alla città, in modo che sia in condizione la città di reinvestarsi un nuovo sviluppo economico. E questa è la realtà, non posso tenersi 50 ettari di terreno, non so quanti sono, per soltanto un piccolo e bianco, perché quello che stanno costruendo è un piccolo e bianco. Per cui partiamo un grande portate, dico agli interlocutori, che purtroppo sono il Presidente della Regione, il Sindaco di Gela e il Vice Sindaco, portate alla proposta di un grande piano di bonifica del nostro territorio. In modo che quelle aree vengono restituite al nostro territorio e la città li può utilizzare in modo anche diverso. Significa, perché quando si parla di ridisegnare un nuovo sviluppo economico, abbiamo bisogno anche di aree. Noi abbiamo un Eni che comanda, perché l'interlocuzione che c'è, mi sa, su quel tavolo, l'interlocuzione politica è poco credibile, sicuramente non ha una valenza, una forza di rappresentanza del nostro territorio. Comanda lo stesso, ma comanda dicendo soltanto che è portato a disinfestimento su questo territorio. Signor Sindaco, è tuo dovere portare i risultati a questa città. Chiacchiere, non ne vogliamo più. Sono passati tanto tempo. E bacchettate alla Giunta Messinese e al Partito Democratico arrivano da destra in movimento. Le politiche adottate dalle precedenti amministrazioni e da quella attuale risultano pienamente fallimentari e non all'altezza delle esigenze di un'intera città. È giunto il momento di cambiare pagina. Lo dice il direttivo dell'associazione destra in movimento, che bacchetta l'attuale classe politica che si trova alla guida della città, passando per il PD, un partito che per anni è stato alla guida di Gela. Siamo alle porte delle prossime elezioni regionali, a ferma destra in movimento, e ci prepariamo alle solite passarelle condite da slogan elettorali, come accade oramai da più di vent'anni. Rifiuti, porto, acqua e deni, i cavalli di battaglia, dei vecchi noti politici, dei fii d'arte e di nuovi aspiranti tali che sono destinati a rimanere meri strumenti elettorali senza alcuna soluzione. Di fatti ad oggi, continua ad estra in movimento, l'amministrazione attuale, nella persona del suo superassessore siciliano e del suo braccio destro, nonché sindaco messinese, ha dimostrato non solo di agire in continuità con le precedenti amministrazioni PD, ma anche di non volere scontrarsi con mamma Eni, o per incapacità o per mancanza di spessore politico o per convenienza. La città attende ancora risposte dopo gli impegni del protocollo sottoscritto da Eni e dalle parti sociali, attende il resoconto delle attività svolte dalla giunta municipale durante i numerosi viaggi romani a spese dei cittadini. Gli impegni assunti dal cane a se zampe sono stati disattesi, l'ennesimo schiaffo morale dato ai cittadini, ai quali resta solo l'amarezza di una disoccupazione galoppante e un territorio stravolto dall'inquinamento. L'ulteriore beffa ai danni dei cittadini ingelesi arriva, dice destra e movimento, dalla dirigenza del PD, la quale punta l'indice contro l'attuale amministrazione dove è intrattenuto per decenni rapporti di complicità con l'Eni, svendendo la nostra salute, la nostra terra e il nostro futuro in cambio di carriere politiche e meschini favoritismi. Ne valsa la pena? E questo è il valore che viene dato alla nostra comunità? Le forze sane, slegate dagli interessi economici e politici, oramai radicati nelle segretarie dei vecchi partiti, devono unirsi e assieme ai cittadini smontare il vecchio marcio sistema che Messinese sta dimostrando di portare avanti. Destra in movimento ha intrapreso un percorso destinato a coinvolgere tutte le anime politiche e sociali che non si riconoscono nel vecchio sistema e che condividono un'idea di sviluppo sano. Auspichiamo che le forze politiche di centrodestra e quelle che si riconoscono nella nostra idea di governo all'interno del Consiglio Comunale prendano coscienza di questa triste realtà e agiscano, secondo coscienza, nell'interesse dei cittadini anche facendosi i promotori di un radicale cambiamento che potrà avvenire soltanto con la mozione di sfiducia. La pagina della cronaca giudiziaria. Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Gela nelle ultime ore. Un 19enne è stato segnalato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere rinvenuti all'interno della propria auto ed un coetaneo per ricettazione. Un 38enne deve rispondere di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. La Polizia Amministrativa e Sociale ha ispezionato quattro attività del Lungomare e del Centro Storico, controllato 31 persone ed elevato due infrazioni. E i carabinieri hanno arrestato a Riesi due giovani, un ventenne ed un minorenne, per detenzione di droga. A bordo dell'auto in cui si trovavano i militari hanno rinvenuto tre panetti di hashish per quasi 150 grammi. Addosso uno dei due aveva anche 20 grammi della stessa sostanza stupefacente. Collocare sedili e pensiline sui marciapiedi delle nuove fermate dell'autobus per consentire ai cittadini di ripararsi dagli agenti atmosferici. La richiesta al sindaco, al presidente del Consiglio e all'assessore alla viabilità e del consigliere comunale di un'altra gela, Salvatore Sammito. Le nuove fermate degli autobus di Via L'Indipendenza, Via Manzoni, Corso Salvatore Aldisio, Via Bresmes, rappresentano, dice Sammito, uno snodo fondamentale nel quadro dei percorsi di trasporto pubblico. Le fermate sono tuttora sprovviste di sedili e pensiline, creando delle difficoltà a chi utilizza i mezzi pubblici, specie alle donne anziane che hanno problemi nella deambulazione. Verso il referendum costituzionale, le ragioni del sì e l'argomento che è stato trattato ieri nei locali dell'hotel Sileno di Gela su iniziativa dell'associazione Centro Studi, Salvatore Aldisio ha moderato Lillo Giardina, presidente del centro. Erano presenti, tra gli altri, Giuseppe Lupo, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera dei Deputati, ed il deputato gelese all'Ars, Giuseppe Arancio. C'era per noi Fabiola Polara. Io credo che bisogna votare sì al referendum per la riforma della Costituzione, per ridurre il numero dei parlamentari, sopprimere quindi il Senato nella forma attuale che prevede appunto l'elezione diretta dei senatori, non sarà più così, il Senato sarà formato da sindaci e consiglieri regionali che non avranno alcuna indennità, quindi riducendo anche i costi della politica e si ridurranno anche i tempi di approvazione delle leggi. Mi sembrano tre punti oggettivi e tre punti importanti e positivi per votare sì. Ridurre i tempi di approvazione delle leggi. Perché? Perché non ci sarà più questo ping-pong che attualmente c'è tra Camera e Senato. Un disegno di legge viene approvato alla Camera, poi viene inviato al Senato, se il Senato lo modifica anche solo di una virgola torna a quel punto alla Camera e si realizza un avante e indietro, una navetta, come a volte abbiamo sentito dire, un ping-pong che rallenta i tempi di approvazione delle leggi che invece spesso sono leggi che vanno approvate con una certa celerità. A maggior ragione in questo momento, un momento di crisi, servono risposte puntuali e precise. Ridurre il numero dei parlamentari, ridurre i costi della politica. Istituzioni più semplici, più efficienti, meno costose. Un rapporto con i cittadini che viene premiato, che viene premiato nel dare più potere ai cittadini. E questo ha l'occasione per trasformare queste lunghe discussioni che abbiamo fatto nel centro-sinistra, ma non solo nel centro-sinistra, per portarle finalmente a compimento. Secondo lei, l'ingranaggio della comunicazione da parte del Partito Democratico nei confronti dei cittadini su queste ragioni si è inceppato da qualche parte? L'ingranaggio della comunicazione è sempre inceppato. Noi dobbiamo cercare di essere più semplici possibili. Volete voi finire con il bicameralismo, come diciamo da 30 anni? Bene, votate sì. Volete tagliare un terzo dei parlamentari? Votate sì. Volete ridurre i costi della politica? Votate sì. Questi e altri motivi ispirano il votare sì. La riforma riguarda soprattutto la parte seconda della nostra Costituzione, che è quella che attiene agli strumenti per far funzionare meglio la Costituzione. Ma i principi fondanti, i valori principali della nostra Costituzione, che peraltro è una delle più belle del mondo, non sono stati toccati. Quindi non si riesce a capire perché su questo punto nessuno dice niente. Cioè c'è una voglia di modificare quello che è il funzionamento della Costituzione. Penso che il legislatore ci sia riuscito. Peraltro possiamo dire che è frutto di un compromesso politico e quindi non è affatto, possiamo avere una modifica completa. Ma il risultato è questo. È un incontro importante grazie al centro studio di Salvatore Aldisio per fare capire alla gente l'importanza del referendum. Tutti abbiamo chiesto da tantissimi anni la riduzione dei costi della politica, la riduzione dei parlamentari, ecco che allora c'è l'opportunità da parte degli elettori, da parte degli italiani, di votare sì e quindi mettere in atto in pratica quello che abbiamo chiesto già da tantissimo tempo. La riserva naturale Bivera di Gela, in collaborazione con l'IPU di Niscemi, Caltanissetta, Naro e Serra di Falco, promuove per sabato 1 e domenica 2 ottobre l'elemento dell'Eurobeardwatch, la grande fotografia europea della migrazione e degli uccelli selvatici nel momento clou del loro ritorno verso le aree di svernamento del Mediterraneo e Africano a cui aderiscono 37 paesi europei. L'iniziativa coinvolgerà la riserva naturale Lago Soprano di Serra di Falco, il lago San Giovanni Annaro, il lago di Sueria Mazzarino e nella giornata del 2 ottobre la riserva naturale Bivera di Gela. L'Eurobeardwatch è organizzato da Beard Life International e in Italia, dalla Lipu, in molteplici aree naturalistiche con forte presenza di uccelli selvatici. In questo periodo potrebbero essere avvistate anche la cicogna nera e l'aquila anatraia minore. Per informazioni c'è un numero telefonico per partecipare all'iniziativa 345 6612 743, lo ripetiamo, 345 6612 743. Si svolgerà fino a domani in Match It Now, la settimana nazionale per la donazione di midollo, osseo e cellule staminali emopoietiche. Anche Gela è scesa in piazza, lo ha fatto oggi a Muretti di Macchitella in collaborazione con la Croce Rossa italiana, i VIP Clown di Caltanissette con il patrocino del Comune, i volontari di Admo Gela, preseduta da Giacomo Giurato e Aduces Sicilian Ollus, diretta da Carmela Calleri, hanno accolto tutti coloro i quali hanno voluto ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali. Admo è sempre, ogni anno rinnova questo appuntamento e anche quest'anno non potevamo dire di no. Tra l'altro la settimana scorsa, il 17, è stata la giornata mondiale nel quale tutti diciamo grazie ai donatori. Sono quasi 28 milioni i donatori nel mondo e noi speriamo sempre che ogni anno siano sempre di più. Ricordo sempre i numeri, uno su centomila, questo è un numero che per noi che lavoriamo nell'ambito della promozione della donazione del midollo è un numero che ricorre sempre. Uno su centomila è la possibilità di trovare un donatore compatibile con un malato e lo facciamo anche pensando a chi in questo momento è in attesa di trapianto, perché queste giornate vanno fatte appunto per questo, riuscire a trasferire questo bisogno perché tutte le mattine chi è in attesa di trapianto aspetta che qualcuno di noi, qualcuno di voi che ci state guardando venga nel nostro gazebo, nel nostro stede, nei poli di reclutamento per dare la disponibilità a diventare donatori di vita. E voi vi occupate con il vostro presidio all'interno dell'ambulanza proprio della tipizzazione? Sì, grazie ai nostri infermieri e soprattutto a Filippo Scicolone è un infermiere della Croce Rossa che noi ci onoriamo di avere con noi ogni anno facciamo questa tipizzazione. L'anno scorso è bello sapere che l'anno scorso una persona tipizzata è stata scelta, era compatibile e ha potuto salvare una vita e questo ci rende molto felici. Oggi siamo qua, come ogni anno, a diffondere la cultura del dono a divertirci perché donare è bello, soprattutto donare un sorriso noi diciamo sempre che la pace inizia con un sorriso. E all'iniziativa di oggi, ai muretti di Machitella erano presenti anche i VIP Clown di Caltanissetta. Per noi il dono è vita, oggi siamo qua con la nostra presenza per dare vita a chi ha una speranza per averla. E quindi siamo tutti qua radunati oggi con la voglia di fare, con la voglia di dare. Che cosa vuol dire essere un clown di corsia? Cosa vuol dire essere clown di corsia? Vuol dire amore. Per me è amore essere clown di corsia, sempre racchiuso nella parola dono. Il gruppo cresce sempre di più, diventa sempre più forte, più coeso. Voi siete VIP Caltanissetta e proprio questa mattina avete battezzato due nuovi arrivati. Cosa vuol dire battezzare? Battezzare è far parte di questa grande famiglia che è VIP, VIP Caltanissetta. Oggi abbiamo non proprio battezzato, abbiamo consegnato loro il camice che rappresenta proprio far parte di questa famiglia. I nuovi che hanno conquistato oggi il camice sono Lelli e Sportina. Poi ci sono tanti altri che hanno avuto il camice qualche giorno fa. Adesso sì, siamo una grande famiglia, ancora di più, sempre più larga. Si riscopre l'empatia, la capacità di mettersi nei panni dell'altro e di condividere. Sì, l'empatia di capire cosa l'altro sta provando e di cercare di far provare all'altro, far dimenticare all'altro per pochi momenti che non sono in un posto di sofferenza. Con la nostra allegria, i nostri colori, rallegriamo un po' la giornata. Che cosa ti ha spinto a diventare un clown di corsia? La voglia di mettere a disposizione il mio tempo per gli altri, quindi condividere il mio tempo che credo sia la cosa più importante. Comunque condividere proprio questo significa non che io sto donando, perché in genere noi riceviamo dagli altri, ufficialmente doniamo, però realmente riceviamo. Com'è cambiata la tua vita? Sicuramente è meglio, la voglia di donare un sorriso agli altri c'è sempre stata e adesso che posso farlo lo forcio volentieri. Infine, l'approccio con la sofferenza, come è gestito dal gruppo? Con forza e coraggio, ci facciamo coraggio e forza tra di noi, bastano i nostri sguardi, ci guardiamo, c'è molta sintonia, è sempre la parola mogica che è comunque amore, e con i nostri allenamenti dove proiettiamo quello che dobbiamo fare. E quindi Patch Adams aveva ragione che si guarisce più velocemente con un sorriso? Sì, 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 si guarisce, cerchiamo di far guarire gli altri, ma guariamo soprattutto noi. Un sorriso per la stampa. E in edicola lo vediamo, il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. Non a pace il PD, dopo la spaccatura della segreteria, quella più recente è venuta nel gruppo consigliare. Nello Lombardo fa il punto della situazione con il segretario numero uno di Cristina e con il segretario numero due Collorà e il pezzo d'apertura della prima pagina. Spazio al settore agricolo con Francesco Vacirca di Confagricoltura che illustra le nuove normative per rilanciare un comparto economico in crisi. Zaira Placenti avvia un nuovo filone esplorando il mondo femminile impegnato in politica. Lo fa con un pezzo di presentazione. Nel prossimo numero si comincia con la presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Asia. Nella sua rubrica, Politicamente scorretto, Giulio Cordaro fa un lungo e dettagliato elenco di quelle che definisce le cavolate di certi politici. Lo sport con i servizi di Orazio Accomando sul Gela Calcio e di Zaira Placenti sul Terranova. In ultima, come sempre, la pagina degli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Eccoci in seconda parte del telegiornale. Si svolta ieri a Gela la festa di onore di San Pio da Pietralcina, protettore della protezione civile. L'iniziativa è stata promossa dal coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile di Gela, composta da Corpo Volontari per il Soccorso, Eligio Soccorso, Gonves e Giubbe d'Italia. Erano presenti numerosi volontari provenienti dai corpi cittadini e dalle varie province siciliane. Possiamo tracciare un bilancio di questa festa dedicata anche quest'anno al vostro santo patrono, San Pio? Sì, allora l'evento è riuscito abbastanza bene, abbiamo avuto una buona risposta come presenza della cittadinanza. Devo dire che per quelle che sono le nostre aspettative è andato tutto bene. I volontari sono rimasti soddisfatti e ringraziamo di nuovo tutta la cittadinanza per essere intervenuta a questo evento. Ci sono ancora molti giovani che decidono di spendere il loro tempo libero per dedicarlo alla città, al bene collettivo. Secondo lei perché? Allora intanto il volontariato è una cosa che viene dal cuore, quindi ci sono appunto molti giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato, però molto spesso sono un pochettino resti. Quindi devono essere spinti anche dalle famiglie a cui noi chiediamo alle famiglie di spingere i propri figli a venire nelle nostre associazioni e a svolgere il volontariato. Perché il volontariato non si fa soltanto verso gli altri, ma si fa soprattutto per noi stessi. E poi nel volontariato anche si cresce sia a livello culturale, sia a livello umano, si fanno nuove amicizie, poi si acquisiscono anche diverse professionalità nei vari cambi che ogni associazione di protezione civile si occupa. Il momento più toccante della serata è senz'altro quello della benedizione dei mezzi. È stato un piacere assistere a questa messa, ringrazio tutte le associazioni e ringrazio soprattutto Padre Pio. La protezione civile arriva veramente laddove spesso non possono arrivare tutte le forze dell'ordine, sono veramente una grande forza per il nostro paese. Assolutamente sì, sono onorato di essere stato invitato a questa festa perché comunque è una festa non solo della protezione civile ma come dicevo appunto anche nel mio piccolo intervento in chiesa, è una festa diciamo della comunità, quindi queste associazioni che collaborano insieme per dare soccorso ma anche per aiutare insomma durante le situazioni di emergenza. E devo dire che vedo un clima sereno, un clima di abbastanza di collaborazione, questo è importante, è quello che auspichiamo tutti insomma anche per la cittadinanza. Anche a Gera molti volontari decidono di spendere il loro tempo per il bene collettivo. Un contributo che avvertiamo utile, avvertiamo essenziale e senza il quale probabilmente molti servizi non potrebbero essere resi a questa collettività. Quindi un grazie personale, un grazie a nome di tutta l'amministrazione per il lavoro, l'impegno e il sacrificio che quotidianamente mettono questi volontari, questi angeli come anche il prete oggi in chiesa li ha definiti. E si trarà domani l'ottava giornata della protezione civile, un appuntamento consolidato che viene portato avanti dai volontari della Procivis diretti da Luca Cattuti. Sono previsti vari momenti tra conferenze, simulazioni, cerimonie, mostre e sfilate. Il programma domani prevede alle 17.30 in Chiesa Madre la solenne celebrazione eucaristica e alle 19 da Piazza Umberto I a Piazza Padre Pio una fiaccolata per ricordare le vittime del sisma che ha devastato un mese addietro il centro Italia. Sono ancora disponibili i pochi posti per le iscrizioni all'ultimo corso sub ex rec dell'anno 2016 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato il prossimo 10 ottobre e si svolgerà presso la sede della Confocommercio Ascom Gela in via Cicerone 104. Gli interessanti dovranno effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Confocommercio dalla lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.00. E ora parliamo di calcio domani sul neutro di Leonforte il Gela ospiterà il Gladiator. Uno vecchio adagio regita non c'è due senza tre e allora è il momento di far fede al motto di conquistare il terzo successo di fila e l'obiettivo in casa Gela. I biancazzurri forti delle vittorie ottenute con Sersale e Due Torri domani alle 15.00 riceveranno sul neutro di Leonforte il Gladiator. Impegno difficile considerato che la squadra campana nonostante la sconfitta di domenica scorsa è ritenuta dagli addetti ai lavori una corazzata. Ma in questo momento per buonafine compagni che viaggiano a mille nessuno e niente possono ostacolare il cammino fin qui intrapreso. Stiamo lavorando con la massima serenità, con il massimo entusiasmo quindi per noi domani siamo con la massima concentrazione perché vogliamo assolutamente i tre punti. Ma vi rendete conto che si tende a essere la classifica? No, noi per il momento la classifica non la guardiamo anche perché noi viviamo giorno dopo giorno. Quindi ripeto, noi prepariamo le partite per vincerle e poi ci prendiamo dando il massimo naturalmente e ci prendiamo il risultato che viene. Naturalmente ci vogliamo questo bel momento e cerchiamo di continuare. Cosa ti mette da Gladiator che è una squadra attrezzata per disputare un ottimo campionato? Intanto affrontiamo una squadra fortissima con elementi di categoria che è abituata a vincere. Loro vengono sicuramente qui per riscattare la brutta sconfitta di Domenico e quindi troveremo una squadra agguerrita. Ma noi allo stesso tempo sappiamo che cosa andiamo incontro e quindi con la nostra serenità, umiltà soprattutto, cerchiamo di affrontare la partita con la concentrazione al massimo. Anche per domani in Terrenese il Gela non sarà solo, ci saranno i tifosi al seguito. Si gioca a Leonforte ma è come se si giocasse al Vincenzo Presti. Preferivamo sfruttare il fattore campo qui a Gela, visto che stiamo attraversando un buon periodo, magari con l'aiuto dei nostri tifosi affrontare Gladiator a Gela era tutta un'altra cosa. Però sappiamo che abbiamo sempre a seguito i nostri grandissimi tifosi e cercheremo insieme di continuare magari con la striscia positiva per regalarci ancora questi bellissimi momenti. E nel campionato di eccellenza il terreno a Gela renderà visita al Mussomeli. I gelorossi del tecnico Serrefino, dopo le due sconfitte di fila rimediate nelle prime due giornate, devono assolutamente cambiare registro per non precipitare nei bassi fondi della gradatoria. Partiranno lunedì 26 settembre gli interventi di delattizzazione a Gela. Allora è sonoto l'assessore comunale all'ambiente Simone Siciliano. Fino a mercoledì 5 ottobre, personale specializzato agirà in tutti i quartieri. Il calendario della delattizzazione con le zone interessate è disponibile sul sito internet del Comune. Ai cittadini è rivolto l'appello a non toccare o danneggiare le esche utilizzate nel servizio. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon fine settimana. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.